Siamo con Denis Tonucci, siamo nel ritiro della Juve Stabia, sta per cominciare una stagione importante per la Juve Stabia, da capitano. Siamo qua a Pesco Costanzo, ringraziamo il paese per averci invitato e ospitato. Siamo carichi per questa nuova stagione, sicuramente sarà una stagione difficile, impegnativa come l'è stato tra l'altro anche l'anno scorso perché questo girone non dà mai niente di scontato. Però siamo una squadra giovane, una squadra composta da giocatori più esperti e giocatori un po' meno, un allenatore che ci ha fatto da subito una grande impressione, un allenatore strapreparato che sicuramente ci insegnerà tante cose. Quindi affronteremo questa sfida a spalle belle larghe. Una sfida a spalle belle larghe, vi siete posti un obiettivo oppure il vostro obiettivo è di dare fastidio a tutti a prescindere? Hai detto benissimo, il nostro obiettivo è quello di rendere la vita difficile a chiunque ci incontri, sia in casa soprattutto che fuori casa. Raggiungere i 50 punti e poi quello che viene di più è tutto di guadagnato. Cosa fondamentale per chiudere è un appello ai tifosi, serve la mano del Menti, serve una mano dei tifosi per fare in modo che il vostro obiettivo sia sempre più vicino. Esattamente, i nostri tifosi ci hanno dimostrato negli anni di essere sempre il nostro dodicesimo uomo in campo e sono sicuro e convinto che anche quest'anno ci daranno il loro contributo per riuscire a portare a casa più punti possibili. Noi confidiamo in loro e sicuramente daremo il massimo anche per loro. Noi confidiamo in loro e sicuro. Noi confidiamo in loro e sicuro.